In questi giorni difficili di quarantena c'è chi si preoccupa e vuole dare una mano non solo alle persone ma anche ai loro amici animali. Ed ecco che è arrivata nelle mani del sindaco Muraglia la proposta di Legambiente Sichelion di aiutare le persone che custodiscono animali. Oggi ai nostri microfoni per illustrarci la proposta, intervistato da Piero Giunta e il presidente di Legambiente Sichelion, Ioseb Elisario. Ascoltiamolo. Allora, Iose, la domanda è scontata. Come è nata l'idea di dare una mano d'aiuto a chi ha animali da custodire in questi giorni difficili di quarantena? Grazie Piero per l'opportunità che dai a Legambiente e a tutti di dire la propria, anche se per la prima volta facciamo un'intervista a distanza, ecco come la legge ci obbliga di fare. L'iniziativa di Legambiente nasce da un'interlocuzione con il nostro sindaco, nasce anche dal fatto che ci siamo chiesti cosa possiamo fare noi in questo periodo per la nostra città, cosa che dovrebbero chiedersi un po' tutti. L'idea è nata dal fatto che abbiamo pensato che le persone che sono in quarantena, che magari sono da sole, non possono prendersi cura dei propri animali, d'affezione o d'allevamento che siano, delle proprie coltivazioni, delle proprie piante, a tanti terreni agricoli che vanno manutenuti. Ecco noi ci mettiamo a disposizione delle persone in quarantena che non possono prendersi cura dei propri animali, a due o a più zampe, oppure delle proprie coltivazioni nei limiti del possibile. Ecco, questa è stata un'idea che è stata ben accolta subito dai soci di Legambiente, ma utilizzo il tuo canale mediatico per divulgare ancora di più questa notizia. Se ci fossero delle persone che vogliono mettersi in gioco, che vogliono dare la propria disponibilità, che ovviamente hanno una passione per animali e piante, ci scrivano nella nostra pagina Facebook, verrete messi in un elenco e di volta in volta valuteremo caso per caso le necessità e la possibilità che ognuno ha di fare del bene, di fare del bene a questa comunità. Io ringrazio sempre tutti, dal privato cittadino che aiuta il vicino di casa se ha un problema, alla protezione civile, alle altre associazioni, a chiunque abbia organizzato una raccolta fondi. Li ringrazio di cuore. Purtroppo noi siamo stati sorpresi nel mezzo dell'organizzazione della nostra festa del tesseramento e per questo ci siamo un po' messi da parte perché in questo momento dobbiamo anche lasciare spazio alle informazioni ufficiali. Ecco, io sei, informazioni ufficiali, una tua parola spendiamola anche su questo. Noto ogni tanto su Facebook o nei giornali che c'è gente che ha voglia di dire la propria anche se non sono notizie utili o fondate. Rinnovo il mio invito sempre a informarsi nei canali ufficiali, nelle pagine del Ministero oppure attraverso il proprio sindaco, attraverso la protezione civile. Informarsi sempre dati ufficiali, leggevo cose sul 5G, sui vaccini, la gente in questo momento deve aggrapparsi a qualcosa. Aggrappatevi a informazioni ufficiali per favore, è questa la cosa che conta in questo momento. Se mi posso permettere di dire, le vostre battaglie storiche in difesa del nostro territorio vanno avanti? Ci sarà un momento nel quale ritorneremo a una parvenza di normalità, ritorneremo a prenderci cura della nostra città, ritorneremo a battagliare sul cavo mortella, sulle saia mare, sul maccone bianco, sui pantane longarini. Ritorneremo a fare tutte queste cose e spero ritorneremo con uno spirito rinnovato, perché questo periodo deve farci riflettere su cosa è importante, sulla bellezza della nostra città che non ha nessun caso positivo fino ad oggi. Abbiamo soltanto persone in quarantena. Continuiamo così? Oggi stiamo a casa e vedrete che ne usciremo molto presto. Oggi è il lunedì di Pasquetta e oggi più che mai vi invito a restare a casa. Lo so, è pesantissimo, sono il primo al quale pesa questa situazione, ma è molto importante restare a casa. Di contro, ci tengo a sottolineare un ultimo aspetto e concludo. Molti di noi posseggono animali nelle seconde e anche terze case che abbiamo. Dar da mangiare agli animali che abbiamo in campagna è necessario, è importante. E l'uscita da casa propria per dar da mangiare ai propri animali per la loro sussistenza è consentita. Non è consentito prendere in giro le forze dell'ordine, non è consentito utilizzarla come scusa. I nostri animali devono essere curati perché loro vivono questo virus come noi, ma non possiamo lasciarli morire di fame. Quindi è importante questo concetto che ci tengo a ribadire. Prendiamoci cura dei nostri animali che abbiamo nelle seconde e terze case, ma non utilizziamola come scusa. Io ho tanti amici animalisti che curano cani, colonie feline e tanti altri tipi di animali. Siamo stati fermati, me compreso, dalle forze dell'ordine. Abbiamo raccontato la nostra storia, l'abbiamo messa per iscritto, abbiamo subito dei controlli. Hanno constatato che era tutto vero e non è successo niente. Non utilizzatela come scusa, ma prendiamoci cura anche dei nostri animali. Ringrazio Josebel Isario, Piero Giunta per la dimensione musica.